Chiara, Chiara, sai che cosa dobbiamo fare oggi? Sì, uno scherzo ad Angelo, con le pozioni dell'invisibilità perché oggi tunisiani, oggi tunisiani, tu intanto inizia a bere oggi dobbiamo andare a... che schifo la bottiglia dobbiamo andare a... armatura, hai ragione a scherzare quello schifo di Angelo che si sta preparando tranquillamente la sua casa tutto quanto, così tutto quanto segreto, intanto pure le torce in mano attenta, attenta Chiara, non tenere qualcosa in mano no no ok, è anche difficile vederti però allora io spero che Angelo non abbia attivato le particelle ora che ci penso perché io ti vedo grazie alle particelle allora, visto che sei da me, allora guardate là, guardate là purtroppo non ho l'Optifine perché siamo nella pre-release della 1.16 però ragazzi guardate là come sta scodinzolando per fare le sue cose e noi adesso gli daremo filo da torcere purtroppo non ho nemmeno l'Optifine comunque ha visto le particelle, Chiara, 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 Chiara ehm non farti vedere, non farti vedere raga, cosa sto scrivendo? vediamo, vediamo, eh no, perché qua è abbastanza inquietante come situazione tu Chiara scappa nella foresta bianca, ci incontriamo là vicino, vicino al cartello quello là, hai presente? il cartello di Gabri quello che l'abbiamo usato per la caccia del tesoro l'hai pure visto? eh eh, allora eh, purtroppo però è notte, questa cosa è un gran problema ok, ok, abbiamo dormito, perfetto, perfetto eh, stiamo lontani, eh, adesso iniziamo a distruggergli tipo il letto, ok? con qualcosa di, di semplice, no? eh, che è successo Angelo? eh, mamma mia! cos'è stato? eh no? xxx vabbè, basta ehm, eh, cos'è stato? si chiede lui, no? tutto quanto estremamente, indubbiamente cosa Angelo? noi scriviamo scriviamo cosa Angelo? che fallo sei? si, si, si fai finito ma dove siete? a, 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 a a scavare si vai, tipo a scavare eh, nelle, nelle, nelle paludi ci metti cerchiamo, cerchiamo i, i, i eh, cerchiamo i, i, gli slime, tipo, no? tu, tu, scrivi tu, scrivi anche tu Slim, 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 perfetto, aiuto, mi sto imbappinando scrivi tu da adesso in poi gara perché facciamo così, è meglio, meglio così ok, ok, quindi io ti dico cosa scrivergli e tu scrivi perché sennò poi dopo io mi confondo dico, oh, ma che cosa avrò mai fatto, cosa non avrò mai fatto cioè, capisci? tutta una situazione molto sbrrsh quindi eh, infatti, è molto, molto sbrrsh esatto, esatto adesso noi continuiamo però a seguirlo il, il soggetto è lui quindi noi sappiamo che siamo vicini ha visto ti è passato in faccia ti è passato in faccia quindi ha, ha sentito qualcosa? eh ok eh, può essere pericoloso perché se lui ci vede no, secondo me sta capendo guardatelo è tutto quanto, tutto quanto chi si chiede ma cosa sarà ma infatti anch'io chiara stai facendo le particelle oh madonna se ti vedi eh, cosa va? sta leggendo le regole eh, sta leggendo le regole del perché se volete venire nel vanilla ci sono delle regole da rispettare ovviamente potete venire nel vanilla se volete basta che venite sul mio server discord che vi lascerò qua sotto in descrizione quindi venite se volete allora oltre a questa pubblicità piccolissima cosa sta facendo? ok, si sta costruendo la sua casa finalmente e adesso noi diciamo di iniziamo a fargli qualche brutto scherzettino prima di tutto scaviamo lì qua sotto tipo non è che vi sta vedendo vero? eh sì oh cazzo spiterina non ho detto niente è scritto raga cosa gli rispondi? eh scrivi scrivi cosa? eh sì che c'è un blocco che voleva che volava ho visto allora scrivi tu sei fuori sì sì vai scrivi scrivi tu sei fuori e tipo scrivi ma che cosa stai dicendo punto di domanda tipo non disturbare perché stiamo anche registrando vai scrivi così scrivi così ok ok intanto io continuo continuo a scarpettarlo non so sono aggettivi messi a caso però adesso io rompo il blocco di legno che si rompe da solo veramente io sciocco basito completamente al suo comportamento di questo blocco di legno io veramente ma poi scusa che forma particolare ha questo appunto beh c'è magari questo angelo si dovrebbe sbrigare un po' a modificare questa forma no no vabbè scusa io non guardo non guardo perché sennò poi dopo è troppo vabbè scusa sono dei blocchi messi a caso su eh dai non siamo così malpensanti infatti adesso ha preso forma finalmente allora che schifo di casa mamma mia questi angelo mi fanno cose ma infatti io veramente la vostra mamma mia scioccato non si prepara nemmeno la sua casa adesso Chiara però dobbiamo fare qualcosa di più di più clamoroso io gli ho messo l'acqua gli ho messo l'acqua per forza era più forte di me per più forte di me gliela tolgo perché sennò non voglio capisci non voglio che eh ha visto veloce no 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 Chiara aiuto 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 che dici no mi sta ansioneggiando vediamo se viene allora non so quanto verrà perché secondo me prima o poi verrà su TS io ne sono abbastanza sicuro di questa cosa perché non so vabbè comunque andiamo ad uccidergli le mucche abbiamo comunque un minuto di invisibilità abbiamo un minuto bravo brava tu dimmi quanto abbiamo di invisibilità ok dimmi dimmi diamogli un fiore adesso ti do anche una torcia anzi dai pugni veloce no raga oh raga allora si angelo prete la registrante di miniera vuoi te ma numero uno ho visto un secchio che volavo prima come qualcuno me sta binchia mi sta picchiando ti sta picchiando si e poi prima qualcosa due volte mi ha toccato ah pensa te due volte e se scopro che sei tu io ti ammazzo ma cosa stai dicendo scusa magari dopo ti invio le coordinate così vedi ma scusa è angelo non sei normale secondo me cioè non so se posso guarda io stavo costruendo casa mia poi mi ha preso una forma ambigua e poi me la devo riaggiustare chiara abbiamo un problema qua in miniera veloce non ci dobbiamo vedere esatto 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 ho capito dai no 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 angelo comunque mi spiace ci sei ancora si ci sono rimasto sul server si resta sul server tiena io esco ciao ok ciao ciao chiara che problema ok se n'è andato stavo guardando qua perché ho detto oddio vediamo se se n'è andato io ho fatto pure scritto che ho bevuto la pozione eh si per fortuna che lui non è non è hoppato ok siamo tranquilli penso che sei hoppato alla fine giusto perché sei il capo del server eh si esatto non l'ho fatto qua solo io esatto eh allora quindi porca misera cioè io ti non so come dir come te lo volevo dire cioè era tipo oh mio dio abbiamo un problema qua in questa miniera cioè io veramente eh cosa hai fatto eh non sono stato io non sono stato io assolutamente no sta prendendo a colpi me cioè non è vero però sta cercando di prendermi a colpi dice ma cosa sarà mai questa cosa io veramente scioccato mettiamoci davanti sui blocchi ok ok spiazziamo i blocchi così a caso scusa spacchiamo l'erba si spacchiamo tutto ma tipo damogli il colpo facciamo oh facciamogli male mamma mia sto sto anzo veramente ci sono ok diciamogli che ho una un aggiornamento della pre-release senti spostalo qua spostalo qua in questa stanza vai ok io ma raga ah angelo mi sono appena ricordato che in questa pre-release guarda che hanno messo tipo delle specie di entità che ti attaccano e che a volte possono attaccare i giocatori per rendere di giorni di tutte le ore non hai visto pure lì nel campo di grano che ti spingono ma là è un bug qua mi mi eh sì 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 ma è proprio così che fanno eh perché boh l'avranno aggiunte loro vabbè forse è per questo ok capisco va bene che te lo voglio va bene ok allora dopo ciao 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 che puoi sentitelo come parla tutto quanto scemo ma perché adesso non stiamo registrando quindi se lo sentite cioè nel senso lui non sa che sta registrando insomma hai capito no avete capito no noi noi ci capiamo al volo no allora rispiego lui non è che sa che stiamo registrando quindi eh quindi è per quello che parla tutto scemo sì stupido mamma mia con quella voce no devo andare a mangiare aspetta allora cosa no mi devo nascondere ma poi perché ha cambiato di nuovo casa ma è stupido eh tutto ma poi scusa gli avevano detto di non costruire là no adesso appena appena gli diciamo appena ritorniamo glielo dico io lo picchio io lo picchio lo picchi sì perché dobbiamo costruire un castello ma perché ora sta togliendo scusami ma che era l'hai spostato no ah ok quindi no scusate ma io non sto capendo a volte sembra che ci senta no raga 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 uè 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 qualcosa ha preso un blocco stava per terra il blocco mi è scomparso eh sì si chiamano ho visto il blocco che volava cioè si chiamano The New Phantasma ah The New Phantasma sì sono nuove entità che la Mojang ha giunto è presente quando scrivevano Herobrine has removed la Mojang ha ingaggiato no no sì 007 che mo no proprio messo in Minecraft hanno messo diciamo questa cosa che se tu fai appunto cosa ti ha colpito di nuovo Chiara attenta attenta anche da noi ci sono Chiara Chiara eh sono dei miei fantasma aiuto aiuto vabbè dai senti ormai abbiamo capito che che ero che schifo io lo sapevo che io stavo dando spada dal vuoto ma subivate danni subivate danni eh beh questa è la vendetta del The New Phantom adesso aggiungiamo un altro cartello e ci scriviamo The New Phantom in questo mondo vanilla molto bello no 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 è proprio Regi quittato lui c'è proprio eh no ma regi quittato il ca eh la 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 comunque stiamo registrando Angelo non so se lo sapevi eh 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 pensa a te ciao ragazzi allora eh ciao ragazzi ciao ragazzi allora pensi che scriviamo scriviamo tipo eh The New non si legge niente New Fantasma fanta fanta fantasma vediamo se riesco a scrivere perché io ho questi problemi allora se venite in questo server vedrete questo questo diciamo questo manoscritto qua eh come tanti altri che faremo durante queste serie durante il nostro vanilla metteremo dei cartelli bellissimi bellissimi che colorerò perché fa così sì che la ciota che la bellissima Chiara colorerà scherzo fa schifo Chiara però vabbè no scherzo 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 tu fai schifo cretino no no scherzo e quindi il bellissimo Angelo anche lui è scomparso ma vabbè stai zitto non parlo non parlo è proprio uscito è proprio rei squittato vabbè ok non parlo no vabbè scusa Giangelo sono stati troppo troppo cattivi con te non volevamo no cosa merita cosa dici in effetti è vero ma è schifo andiamo a dormire no no ma siamo in miniera oh i zombie che è mio padre che è mio padre mi insegua allora ci vengono capire esatto esatto vabbè quindi niente questo dunisiani siete arrivati fino a questo punto del video scrivete allora vai tu Chiara una parola che devono scrivere nei commenti cetriolo cetriolo il classico cetriolo però e quindi ci vediamo al prossimo video dunisiani ciao 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 col cringe